Prima che inizi il video vi volevo dire che se volete giocare con me, Ale e Fede ogni sera noi giochiamo ad Among E se volete potete passare sul canale Discord che trovate in descrizione e possiamo farci qualche partita insieme E detto questo buona visione Oh raga dai posso fare l'intro serio senza che voi fate i Ciao ragazzi bentornati in questo video Oggi siamo tornati con Among Us, non siamo tornati perché è il primo video che facciamo Ragazzi mutiamo Sì sentite come si trattaneva da ridere mentre faceva l'audio Bella raga adesso uccidiamo qualcuno, uccidiamo Ale che fa sempre, no lì è il 21 2021 è il mio socio Andiamo in electrical vediamo se c'è Guardalo Ale Oh Ale Guardalo lì che voleva scappare Guardalo lì che voleva scappare Guardalo lì Tutto il tempo, tutto il tempo delle tasse Detectivelle perché mi ha seguito per tutto il tempo Non è normale E niente facciamo che chi muore fa un po' di intrattenimento Perché altrimenti qua viene un video dove stiamo solo zitti Che triste è il mio animaletto morto lì E' triste lì Vicino a electrical E' di nuovo Sentiamo che accusa stava Fede, dai Qual è la word? La asterisk word Che non si dice asterisk Come si dice asterisk? E si che muore pure il 2021 Dai raga cerchiamo di fare un video decente Vi prego Sì raga scriviamo Purple sass No Chissà come mai 2006 is sass Lisa è morta No ma in realtà il viola sono io da un altro account Non lo sapete Ma come? Ma con che fisica Ma scusatemi Che si gode Ma come? Ma non l'hanno nemmeno detto Crewmate Wow Ma non mutiamoci Cioè Sennò è noioso Ah sì dai raga E poi non posso capire se Stefano è l'impostore Meno Secondo me lo è Guarda che sospetto Entra in security account Sì vuoi vedere la barra delle tasche che si alza tra 3 2 Vediamo Vediamo 1 Lo sai vero Stefano che Ma stai ma io non ho visto nessuna barra alzarsi Non possiamo vederlo a te che c'è cosa ho sabotato Non possiamo vederlo Ah hai sabotato qualcosa Ma io Stefano Ti devi dire qualcosa Stefano Io piango Io piango E tra un po' lo scoprirete perché Faccio le missioni Ah no Non puoi farle Ma come Hanno trovato il verde Non me Ma dai Ah ma sei morto Sì sono morto Mi hanno brutalmente giustiziato Quando stavo facendo una tasca Di mafia In comms E si era andato a sabotare Intanto Ah no ma non è lui scusate Ah ma chi era E Purple is safe perché l'ho visto fare Purple is safe perché l'ho visto fare le tasche Mi Mi White Ha sbordato Genio Quello va sempre Quello va sempre Ma Bellissimo Secondo me è un po' sospetto Coso Il Yellow Ma i blocchi si continuano a dire Purple 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 Ma no ma dai 622 222 222 Sì Intelligenza Viene scoperta nel 1312 Persone nel 1311 Yes Emergency meeting Ma cos'è No dai Le luci no E poi vado in Electrical Ma Fede ma perché fingi di fare la tasca Cosa Perché fingi di fare la tasca Perché non può fare Godo E si gode E si gode Signor Io volevo far rivedere che Che ero un crewmate Che stavo facendo la tasca No Mi Tizio E' bello che inizia pure la partita Dicendo che ero io Io non È stato bellissimo perché mi fa È stato bellissimo perché mi fa Vedi le barra che si illumina fra te 2 Cioè io ho finito la task Ho visto che si è chiuso il portellone E mi ha visto Instant che mi ha ucciso Cioè io ero lì Stavo facendo i cavi Ero lì ma what E io Quando Fede mi fa Ma non ho visto nessuna barra che si illumina E poi ha pensato che Che ho riso perché Era Appunto per la roba di Stefano Perché era l'impostore E invece ho riso perché l'avevo appena ucciso Vabbè dall'impostore Oh di nuovo i cavi vicini LOL No allora Ma tipo in telecamere Ma in telecamere Ho visto che in un video Oh che figo vedo Ale dalle telecamere Bella Ale Che sto facendo la task Evidentemente Stefano non è cieco Signore di Twitch Stefano non è cieco Yellow Yellow In elettrica Green Ma ma No Ma dai Allora io voto yellow Questo qua mi sembra più Io voto white No Povero Fede Ma o se mi votano Io tutti votano io voto Ma hanno già tutti votato C'è solo LOL No L'arancino ha scritto white No No Non ci credo Siamo LOL Io voto in te Ma chi che deve votare Radiano Oh Fede Oh Fede Chi si gode Il godimento Perché Oh Fede Fede non l'aveva Non l'aveva ancora provato Perché in realtà LOL È l'impostore Insieme a me Sportività No ma dai Ho sbagliato Alessandro Stefano e Federico No Oh ma è un gioco C'è chi si frega Ma sì ma appunto Ma Bella raga Sono io L'impostore No ma che bui benissimo No sì dai ragattanti È un gioco Il karma Comunque raga Io non ho ancora ucciso uno È il verde Che sta ammazzando tutti Ma in un modo bruttissimo Sì Ma chi è morto scusa Il verde Mucci Sì difatti Tutti dicono Votato il verde Grazie al cavolo LOL Non ho capito Ma sei tu col verde Stefano è verde Stefano è verde Ma come orange Che c'entra LOL Ah tu pure Li stai sul gioco No green Quindi Non so che fare No mafia Dovevo votare LOL Dovevo votare LOL Stefano sei stupido Eh ma non ho capito Adesso Adesso uccido tutti Tutti Muz Ha fatto un Ha fatto un game Bellissimo Devo Devo Risarcire il suo game Uccidendo tutti Risarcire Risarcire Vendicare Ma basta Non posso uccidere la gente Che mafia Risarcire I soldi Black Ma perché Ma come Si gode Si gode Si gode Si gode Signore di Twitch Si gode Si gode Ma perché Ma perché Ma come Ma non ho fatto niente Non ho fatto niente Si è molto votato Stefano Hai scritto No is black Si tu In nero Stefano Ma si Ma tanto Mi voto pure Cioè io non so Non ho parole Ma dai Ma che mafia Io volevo salvare Il game Di Muz No È il nero Ma sei tu il nero Oh no Basta che scriviate Joan Ecco Scrivete Joan E giocherete con noi Adam In qualche modo Perfetto Che bellissima E l'autoscape più bello Che c'è in questo game Facilissimo Facilissimo Oh ma Ma io non ho parole Oh Sempre io Al primo turno Ma basta